Siamo prossimi alla pausa d'agosto, a giro di bodi quest'anno politico parlamentare, che giudizio ne date? Assolutamente negativo, deludente, nessuna misura per il Paese e le imprese e i cittadini italiani, favori ai soliti noti, alle banche, ai grandi poteri industriali e finanziari, giudizio negativo. Intanto c'è già un clima preelettorale, un clima da liberi tutti, il governo perde un ministro, andiamo verso la legge di bilancio che non si sa da quale maggioranza sarà alla fine sostenuta e dunque? Sì, è una maggioranza che traballa, che perde pezzi, che non lascia tranquillo il Paese per una fine legislatura che sia da ricordare per misure utili, ancora una volta, alle imprese e ai cittadini italiani, quindi la legge di bilancio sarà l'ultima sfida, grande sfida, noi confidiamo che la maggioranza riesca a porre in estra le misure che sono necessarie, ma temiamo che ancora una volta le nostre aspettative, che sono quelle della maggioranza degli italiani, possano essere deluse. Intanto tiene banco il dramma dei migranti, i cittadini sono arrabbiati, impauriti, con loro anche molti sindaci, hanno torto? No, io ritengo che non hanno torto, qui la gestione del fenomeno migratorio sappiamo benissimo che è una vicenda complessa, che purtroppo paga lo scotto di essere oggetto di campagne ideologiche, di scontri, di fazioni ideologiche, si perda molto spesso di vista un approccio pragmatico e realistico alla situazione, che è quello che il Movimento 5 Stelle cerca di avere, di suggerire, con soddisfazione, devo dire, anche di vedere accolte a distanza di tempo e dopo aver subito tante critiche, alcuni suggerimenti volti ad affrontare meglio la situazione dell'immigrazione, parlo della revisione dei trattati di Dublino 3, parlo del ruolo che l'Europa e i paesi europei devono svolgere in quanto membri di una comunità internazionale come l'Unione Europea, parlo di tante altre misure che quando lo dicevamo noi eravamo tacciati talvolta di essere xenofobi, razzisti, leghisti, ma che adesso anche il governo è costretto a prendere le misure e a predisporre dei provvedimenti che possano gestire al meglio questa fase difficile. Tuttavia le richieste dell'Italia non vengono accolte, anzi vengono eretti muri, si minacciano militari alle frontiere e allora? E allora il problema di questa situazione, che faceva riferimento alle minacce austriache, velate, più o meno ritirate, noi credo che abbiamo un problema, la scarsa autorevolezza che il paese Italia assume ormai da lustri, da dicenni agli occhi del panorama internazionale europeo e non solo. Noi non siamo un paese credibile, siamo un paese che è stato capace tramite i propri governi di svendersi accordi come quello di fronte extritono per far sì che il luogo degli sbarchi fosse stato solo l'Italia a fronte della benevolenza europea per i bonus renziani, che non sono serviti peraltro neanche a nulla. Allora occorre che l'Italia riacquisisca quella autorevolezza di paese europeo fra i principali paesi europei e che le sue richieste legittime, non populiste, non demagogiche, non xenofobe, e non inutilmente boniste, siano prese in considerazione e affrontate in ambito europeo. Per far questo occorre un governo credibile, un paese dal quale si sa che se una cosa viene detta poi viene mantenuta e non un paese che è un governo che è ondivago e che nel corso degli ultimi decenni si è dimostrato di essere per lo più inaffidabile agli occhi dell'opinione pubblica internazionale. Intanto prudentemente il Temer Gentiloni toglie dal campo l'ipotesi di una fiducia sullo ius soli, rinvia il provvedimento, voi che ne pensate? Io personalmente sapevo e già immaginavo questo esito da qualche settimana, perché da quando nel dibattito politico il tema dello ius soli è stato introdotto senza un'apparente necessità, fra le mille urgenze che questo paese ha, con tutto il rispetto di chi è potrebbe essere interessato da quel tipo di provvedimento e ancora una volta è stato uno strumento, è stato e forse sarà uno strumento che rimarrà nelle intenzioni della maggioranza per polarizzare gli elettorati di destra e di sinistra, per far sì che la Lega possa manifestare la propria opposizione contro l'invasione e l'annacquamento etnico della popolazione italica da un lato e dall'altra di chi vede la situazione di queste persone che pure certamente esistono come il primo dei problemi da risolvere. Sono argomenti volti a polarizzare l'elettorato di destra e di sinistra, sono argomenti da fine di legislatura secondo loro, quando invece sarebbero argomenti da affrontare ad inizio legislatura, non alla fine. Servono per polarizzare il voto e far sentire gli italiani che si sentono ancora dentro di loro un po' di sinistra o un po' di destra per riaccendere quella fiamma che ormai si è spenta a fronte della consapevolezza che le ideologie sono state usate da tempo ormai come specchiette della lodole per portare al voto in ogni tornata elettorale chi si sente di destra e chi si sente di sinistra. Intanto in autunno ci saranno le elezioni in Sicilia che voi ritenete un banco di prova importante per le vostre aspirazioni di governo dell'Italia, con quali proposte? La prima proposta, quella più importante che ripetiamo in ogni dove è quella di istituire un reddito di cittadinanza, una misura che solo in Italia e in un altro paese in Europa ancora manca. C'è la possibilità di avere un sostegno economico per chi cerca lavoro, si impegna nella formazione e nella ricerca di lavoro, un aiuto dello Stato, della comunità che si fa Stato, che impedisce la caduta della disperazione e dà la possibilità di sopravvivere fino a che un lavoro non lo si trovi. Al terzo rifiuto della proposta di lavoro questo sostegno viene meno, quindi non è assistenzialismo becero. Questa è la misura che secondo noi è la prima e fra le tante che noi proporremo per un programma di governo per riuscire veramente a cambiare questo paese definitivamente mandando a casa una classe dirigente che ha dimostrato quello che vale, cioè nulla è la classe dirigente che ha portato questo paese nello Stato in cui si trova.